Oh, giovane, ah non ci sentite, ah? Avevo detto che sto noccioletto mi fa schifo. Scusi, signora, noi avevamo pensato... Ma che pensa? Che se pensavate non faceva dei muratori? Come, scusi? Bicilli, incompetenti e pure disonesti. Vabbè, signora, ma che problema c'è? Io rifacciamo il colore noi. No, il problema c'è perché la giornata ve la devo pagare lo stesso, no? Ma non ce l'ha pagata, ma non ce l'ha pagata. Ma che pensi che abbiamo bisogno delle lemosine tua? Senti, giovane, non t'azzardare a parlarmi così perché io guarda che chiamo i carabinieri subito, chiaro? Ma chiamo a chi te pare, ma chiamo a chi te pare. Sergio, per favore. Ma che per favore? Ma lo vedi come ce tratta sto canotto sguffia così? Ma lo sai che c'è? Ma batta un affanculo tu, sta villa de' merda e pure i filippini. Grazie, signora, ripeto il signore. Dai, grazie al cazzo. A salvatore, vienmi apri sto caccello, va che se ne andiamo. Ribellatevi. Grazie. Grazie. Grazie.